questo non è che andava di giro quello altro perché è andato un po' più avanti la retromarcia non c'è là il cavallo ha capito? perché non c'è la retromarcia se quello è andato un po' più avanti che fai? metta la retromarcia non dietro vedi un'altra volta al giro finché non va preciso si però è pure il cavallo che va a prendere no ma c'è qualcuno che gli dà la mano no ma c'è qualcuno che gli dà la mano no no io la faccio fatto bravo bravo a posto bravo 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 Ma ora Alessandra che fai? Dovano aspettare che finisce lui? No, penso che ora fai un attimo con lui e poi prendere la lista. Quello l'ha fatto, è fatto quello. Ho paura di aver salito sul trono. Poi io dai mi dà il domino, secondo me, perché da un metro e mezzo sono bianchi.